Ma non ho capito perché la gamba è la pena, ma se non c'è in due, va bene? E dopo il gano è la Madonna del pianto, è una che ha la gamba e una che ha la luce. Qua si vuole un santuario, la Madonna del Gaudio. Ecco perché se no che se... va bene, proporremo al Vescovo. La Madonna del Gaudio. Alla dobbiamo accortare. Che va a dichiarare gli strumenti? I strumenti si cominciamo in son maggiore e poi moduliamo in si bemolle. Aspetta, al fine si fa morire le trombe. Superiore a sua almonaria. Va bene il sol o preferisce il si bemolle? Ah, troppo l'olio. Andiamo su si bemolle, assieme la prima. Ma perché, perché tu che ci fossi? Potre perché l'uree... Però, mi piace il si, mi piace il si. Questa è una testimonianza vocazionale. La suola ha detto, sì, signore. Un applauso alla suola. Bemolle. No. Vedi che noi facciamo anche propaganda cattolica. Però, bemolle. Però, ora incomincia il sol, che non frega nevo sola. Viene rotta e fa. I trecchi di questo sì. Vieni. Vieni. Ma come come. Siete pronti a cantare? Magina 72. È quello che lei dice? La saldita è una tromba, dovete contare il tasto e io Voglio evitare di quella cappella che guarda la valle E qualcuno con un pennello non mi vede che la palla Per il simbolo non mi viengante che passa a dirà La domina è il suo regalo, sai pregando il chimico per chi E' un po' sopra il campo, io non ho mai bisogno di a tempo Non è stato il sogno, il sogno e il sole è l'inverno del gelare È il suo regalo, è la primavera che è un amore di fiori Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.